Allora, salve a tutti, bentornati alla Campudari, siamo con il maestro Danilo De Campo che ci insegnerà il Wing Chun, ci fa vedere qualcosa e poi mi ci metterò anche qui. Prego, maestro. La particolarità del Wing Chun è quella di non formare forza alla forza dell'avversario, ma di essere flessibile e veloce. Se lui viene e mi spinge, io sono subito qui, vedete, ho un controllo con la gamba e posso reagire in questa maniera. Una spinta sulla spalla, se io sono rigido, succede questo, ma se io sono disposto a cedere, vedete cosa succede? Ovviamente questo quadro non viene, posso colpire, l'importante è sentire dove va la sua forza. Allora, se io posso spingermi di qua e io cedo, se posso spingermi dall'altra parte e qui io cedo ancora. Il mio braccio è un'antenna che non si oppone alla sua forza, ma sente solo la direzione dove il mio corpo deve spostarsi. Vedete? Questo funziona anche in attacco, e qua lo entro, lui spinge fuori, sono subito qui, e lui impara anche questo, sono subito qui. Ok? Adesso vediamo cosa ci fai vedere tu. Adesso magari io, maestro, vediamo cosa sappiamo qua. E senti la mia forza, e quando io ti spigo, non ti opporre, ma ci tira la spalla da quanto l'andone. Cioè la mia forza va di qua, lo fanno andare, automaticamente prendo tutti i miei venti. Vedi? Allora, adesso. Oh, 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 oh. Io consiglio per una ragazza che si difende di non tirare con la noccia del pugno, ma con la mano aperta qui, perché c'è meno possibilità di far girare se non sei allenato. quindi io sono qui, vengo verso il pugno, e tu ti giri, ma poi alla forza, gira, 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 fammi andare, adesso vai, sì, qua. Perfetto, questa è buonissima, e qui dai, controllo, e controlla neanche il piede, perché lo subito a piedi. Questa vai, hai, sotto controllo. Se io spingo via questa mano, avventa la tua altra mano a sette. Siamo qua, tirando in giro, io parlo, aggancia con questo l'altra mano a sette e tira con questo. Rifacciamo ancora. Da sotto. E adesso libera e così. Quindi l'essenza è questa. Noi siamo qui. Pio vento, mi spinge via, mi lascio spingere via e rientro di qua. Perché se io mi lascio andare, a un certo punto la sua forza all'altria mi libera questo di padre. In caso mai. Quello che facciamo su, lo facciamo anche giù. Perché quando sono qui, io posso anche calciare. Noi siamo. Soprono che noi non usiamo i calci alti perché il vinci non è, non mi chiede una specificità estrema. E' una specificità personale. Quindi i calci sono tutti i passi, la ginocchia, stiamo qui. Tramoriamo così. Ti aspetto per la prossima lezione. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo presto.